furono chiamati partiti, figli di madri non sposate e ritenendoli meticci, figli bastardi, di relegarlo alla stessa stregua dei servi i loti. Io ero uno dei partiti e nelle nostre vene scorreva sangue guerriero, non potevamo permetterglielo e così ci allevamo agli loti e insieme organizzammo una rivolta che doveva scoppiare durante le festeggiacinzie. Io fui nominato capo della rivolta e giunse il giorno come gesto d'avviso nel scatenare la rivolta avevamo deciso che io togliessi il mio filo se stavo per compiere il gesto quando il vecchio Araldo Ilo vi si parò davanti, fermati, fermati Falanto non farlo, deponete le armi, siete stati scoperti, non spargiamo inutilmente sangue.